Tre tappe in altrettanti comuni del Cilento per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al diabete. Il Tour della Prevenzione, organizzato da Humanitas Salerno, Associazione ATD, Team Diabetologici Italiani Ollus e Associazione Ollus Stranieri nel Mondo, in collaborazione con l'Istituto Polidiagnostico Santa Chiara di Agropoli, prenderà il via da Capaccio domenica 29 gennaio, in Piazza Santini, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dagli ore 16 alle ore 18, sarà presente un camper ambulatorio itinerante, presso il quale i cittadini potranno effettuare gratuitamente un test glicemico, utile a verificare la predisposizione allo sviluppo della patologia diabetica. Lo staff specializzato distribuirà inoltre materiale informativo per la cura e la prevenzione della malattia. L'iniziativa, denominata il diabete, meglio se lo conosci, ha raccolto il patrocino della provincia di Salerno e dei comuni interessati dal TUR, Agropoli, Capaccio e Castellabate. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi dieci anni il numero di pazienti diabetici raddoppierà. In campagna, come emerge dall'ultima indagine multiscopo Istat, c'è una presenza di 85.000 diabetici fra i 18 e i 64 anni. Nell'area geografica che comprende i comuni di Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Laureana, Oliastro, Prignano e Torchiara, il numero dei pazienti diabetici è stimato in almeno 4.000. Le prossime tappe del TUR e della prevenzione si svolgeranno a Castellabate, in piazza Lucia e ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto, rispettivamente il 19 febbraio e il 26 marzo.